Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì 11 agosto, memoria di Santa Chiara. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinegherà davanti agli uomini, sarà rinegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo, gli sarà perdonato. Ma chi bestemmierà lo Spirito Santo, non sarà perdonato. Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati, alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi, o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Parola del Signore. La nostra testimonianza ha un valore essenziale. La nostra testimonianza è fondamentale per la nostra salvezza eterna. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Chi mi rinegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Com'è importante la nostra parola, com'è importante la nostra testimonianza, com'è pericolosa la nostra paura, la nostra timidezza. Il Signore vuole che lo confessiamo davanti agli uomini, anche a prezzo della persecuzione. Oggi ricordiamo Santa Chiara. Santa Chiara d'Assisi, nata verso il 1193 o 94, d'Assisi appunto, la nobile famiglia, lei si fece colpire, anzi fu colpita profondamente, dalla parola di fuoco di Francesco. Francesco che non si vergognava di testimoniare Cristo Signore, ma lo predicava apertamente, seguendolo nella povertà della vita, in una perfetta umiltà. E lei, a 18 anni, scelse di andarsene da casa per consacrare la sua vita a Dio. Se ne andò, abbandonò tutti, scelse la perfetta povertà. Francesco le tagliò i capelli davanti agli altri frati, e Chiara poi, prima vissi in alcuni monasteri, poi andò a San Damiano. I parenti non furono contenti di questo, cercarono in tutti i modi di sottrarla questa scelta, la clausura. Ma chi mi riconoscerà davanti agli uomini? Ecco, lei davanti agli uomini, davanti all'insistenza dei parenti, davanti anche alla forza con cui volevano trascinarla via, resistette. Fu tutta di Dio e fu impossibile portarla via a San Damiano. Anzi, il suo esempio fu così forte che coinvolse poi anche la sorella Agnese e anche l'altra sorella e la madre, che tutte si consacrarono sotto la guida di Chiara, della giovane Chiara, come donne e insieme a loro tante altre ragazze di Assisi, si consacrarono come povere dame che vollero seguire Gesù, umile, povero, crocifisso, secondo gli insegnamenti di frate Francesco. Il loro esempio parla ancora oggi. L'amore che Chiara ebbe per il Signore e per l'Eucarestia fu straordinario. Chiediamo la grazia di seguirne l'esempio e di camminare sulla via della santità. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Preghiamo gli uni per gli altri. Buona giornata e auguri che si chiama Chiara. Sialo dato Gesù Cristo.